Sirena, intanto partiamo dalla fine, quel calcio di rigore, quanto pesava per me, che mi ha detto che te la sentivi e quindi l'hai calciato tu. Sì, allora penso sia stato il rigore più importante della mia carriera fino ad ora, è stato bellissimo, me la sentivo di calciare, ho visto che le mie compagne avevano fiducia che lo calciassi io, quindi sono andata, ho preso la palla e non ho pensato più a niente, ho pensato solo a fare gol. Oggi sei entrata nella ripresa e come dire, hai vissuto la parte migliore della nostra partita che con un gran secondo tempo ha ribaltato qui a Pomodiano. Sì, diciamo che abbiamo fatto i gol nel secondo tempo ed abbiamo giocato molto bene e sono molto felice di aver conquistato la salvezza su questo campo perché era molto ostico e difficile ed averla conquistata così nel secondo tempo farei gol in rimonta è molto più bello. Sembrava un po' un film da scrivere, un film che rispecchia un po' quelli che sono i valori di questa squadra, grande lotta, grande sacrificio, grande abnegazione. Sì, arriva qualcun'altro, un po' più niente. Sì, insomma una partita è un campionato da avere leonesse. Sì, diciamo che in qualche partita di questo campionato ci sono stati tolti dei punti che meritavamo e abbiamo avuto la nostra rivincita oggi perché abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e il risultato è stato dalla nostra.